Giuseppe Riccioddi conosce Michetti nel 1911, quando è suo ospite a Francavilla. È il primo grande nome a entrare nella raccolta del collezionista, che nel tempo acquisterà altre sette opere dell'artista. Riccioddi descrive così la tela, una splendida contadina abruzzese che avendo due bimbi fra le braccia scende la gradinata della chiesa, mentre dalla porta del tempio esce la processione. Mammina è uno studio preparatorio per la grande tela intitolata Processione del Corpus Domini a Chieti. Lo spunto folcloristico si traduce in sentimento corale, dando vita a un'immagine da cui tracima un'esuberante vitalità primigenia. La cornice viene realizzata dal pittore stesso aiutato dal figlio.